Questa è la condizione delle famiglie italiane, di quelli che si devono guadagnare la vita, di quelli che devono aprire un'impresa. Stiamo qui, seguiamo con distacco le vicende della politica. Non siamo un paese nel quale, fatta una campagna elettorale, dopo 24 ore sai chi è, che comanda e che guida il paese. Qui, fatta la campagna elettorale, è come se non avessi fatto niente. Abbiamo perso tempo, abbiamo fatto un po' di teatro, un po' di effervescenze, un po' di campagne elettorali, un po' di palle sull'Imu, un po' di demagogia tutti a casa, i manifesti mortuari del PD, Grigio Topo, Ingroia, si candida essendo magistrato, poi torna a casa e vorrebbe fare il magistrato laddove si è candidato. Meno male, almeno su questo il CSM ha detto che puoi andare a fare il magistrato solo in Valle d'Aosta, se ho capito bene perché è l'unica realtà nella quale non ti sei candidato, questa è l'Italia.